Sì, c'è tanto rammarico, tanto dispiacere perché ci tenevamo a vincere questa prima partita in casa che abbiamo preparato con un ritiro fatto molto bene, abbiamo tanta voglia di ottenere subito una vittoria e c'è tanto rammarico perché abbiamo avuto tantissime occasioni per vincerla, siamo passati in vantaggio, dovevamo essere più bravi a mantenere il risultato, però guardiamo avanti, alla prossima con rabbia e cattiveria. Grazie